Buon 25 aprile. Inviamo un caro saluto a Marco Bersani e al Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua, con il quale abbiamo condiviso e condividiamo un percorso importante. Il 24 e il 25 aprile 2010 iniziava la straordinaria raccolta firme per ottenere il referendum sull'acqua pubblica. A Grugliasco ne raccogliamo circa 2.500 e la prima fu proprio del partigiano combattente Antonio Falbo, il nostro ex presidente. A livello nazionale furono quasi un milione e mezzo le firme raccolte. Sono infatti dieci anni che portiamo con noi in corteo per la festa della liberazione ogni 25 aprile anche alla bandiera dell'acqua pubblica insieme alle bandiere partigiane. Nel referendum del 12 e 13 giugno 2011 il popolo italiano si espresse democraticamente in modo chiaro ed inequivocabile per l'acqua pubblica, una decisione ignorata ancora oggi che pone in luce la distanza tra le istituzioni e la volontà popolare. Sono stati anni di tradimenti della volontà popolare, di intenzionali perdite di tempo, di arrogante ignoranza da parte della quasi totalità di coloro che ricoprono temporaneamente ruoli istituzionali ad ogni livello. Come antifascisti rinnoviamo il nostro impegno per portare avanti l'eredità di quella vittoria referendaria di cui il forum italiano dei movimenti per l'acqua è attento e rigoroso custode. Il tema della difesa della costituzione repubblicana, legato alla sovranità popolare, si innesta nella più ampia lotta per la tutela dei beni comuni, che è oggi uno dei temi fondamentali della democrazia e per la transizione ad una società più matura, partecipata e sostenibile. In questo senso i diritti costituzionali, i diritti civili, i diritti sociali, la questione del cambiamento climatico sono tutte questioni collegate alla grande elezione della resistenza partigiana. E non solo all'unità nella diversità per battere il grande nemico antifascista, ma anche per immaginare, progettare, far sbocciare una nuova società diversa da quella preesistente, come un bel fiore in primavera. Un saluto speciale a Mariangela, Paola, Simona, Emanuela, Riccardo, Nicla, Ilaria, Andrea e tutte le persone impegnate nel Comitato Acqua Pubblica di Torino, che generosamente ci ricordano ogni giorno che la democrazia è un processo di partecipazione popolare diffusa, attiva e consapevole, volto alla trasformazione della società in senso egualitario, dal basso, con giustizia sociale e anche gioia e creatività. Come riconosciuto anche nel XV Congresso Nazionale dell'AMPI nel 2011, affermiamo ancora una volta che si scrive acqua e si legge democrazia. Fuori i profitti dall'acqua, fuori l'acqua, dal mercato. Anche per i beni comuni e il controllo popolare sui servizi pubblici, la resistenza continua. Buon 25 aprile, buona festa della liberazione.